Si accelera sui vaccini ma poi ci si dimentica dei criteri di somministrazione e soprattutto di come vanno trattate le persone. Una persona fragile non può essere convocata per fare il vaccino in una struttura non idonea se dopo il vaccino possono scatenarsi reazioni avverse. Si chiama Assunta Parnese, la paziente salernitana che domenica pomeriggio, suo malgrado, è stata protagonista di un episodio a suo avviso grave che si è verificato al centro vaccinale del Teatro Agusteo di Salerno per il quale è stato necessario l'intervento di una pattuglia della polizia. Affetta da mieloma smoldering, colangite biliare e spondilosciniti nonché soggetto allergico, domenica è stata convocata presso il centro vaccinale del Teatro Agusteo ma non è stato possibile procedere all'inoculazione della dose di vaccino per una serie di fatti incresciosi che sono stati denunciati con una querela all'autorità giudiziaria. Sebbene dopo il colloquio con un operatore impegnato nelle vaccinazioni e dall'analisi della scheda anamnestica del paziente era stato rilevato che la donna avrebbe dovuto sottoporsi al vaccino in una struttura protetta, quindi in ospedale, la valutazione è stata contestata dalla responsabile del servizio dell'ASL, scelta imposta con fare modi contestabili dalla paziente per la quale è stato necessario chiedere anche l'intervento del 118, un episodio spiacevole che si è concluso senza la somministrazione del vaccino con la denuncia alla polizia cui ha fatto seguito a una lettera per conoscenza al direttore dell'ASL di Salerno Mario Iervolino e al governatore della Campania Vincenzo De Luca. Perché appena sono arrivata per fare il check-in preaccettazione per la somministrazione del vaccino, una dottoressa mi chiedeva quali fossero le mie patologie e se nel caso fossi anche allergica, rispondevo di essere un soggetto allergico, avevo anche comunicato questa notizia al mio medico curante elencando tra le patologie il mio stato di essere allergico per cui la dottoressa dopo effettuata l'anamnesi riscontrava che non c'erano i presupposti per farmi effettuare il vaccino in sede. Ricordiamo che lei è un paziente fragile, lei non è un paziente al quale può essere somministrato qualsiasi vaccino? No, no, sono un paziente fragile, non per volontà o per scelta, ero stata convocata domenica tra le categorie protette e niente, allo stato non mi sono vista ancora somministrare alcuna dose di vaccino, quale il Pfizer, perché un sedicente responsabile del centro, contrariamente alla sua collega, al sanitario, che riteneva inopportuno e inadeguato che io venisse somministrato in sede il vaccino, ha iniziato a invidire contro la mia persona, apostrofandomi oltremodo, dandomi anche dell'incivile e nel momento in cui mi sono sentita male, addirittura mi sono vista negata l'intervento dell'ambulanza del 118, ma non solo, addirittura invece di soccorrermi la sedicente responsabile, vietava tutti gli altri sanitari di venire a tutela della mia persona. In pratica a lei il vaccino dovrebbe essere somministrato in ospedale, sotto vigilanza medica? Sì, sotto vigilanza medica e in ospedale, per eventuali shock anafilattici. La dirigente ha ritenuto non opportuno ciò, in quanto i suoi poteri conferiti gli potevano permettere di stabilire il locus del vaccino, senza rendersi conto che né che io fossi un paziente fragile né che fossi un paziente allergico. Così, perché lei era il capo e quindi lei decideva. Alla fine c'è stata un po' di agitazione nel centro Augusteo, nel teatro Augusteo, è stato necessario l'intervento della polizia, poi l'arrivo di un'ambulanza, alla fine lei non ha fatto il vaccino. Alla fine non ho fatto il vaccino, per fortuna sono intervenuti gli agenti di pubblica sicurezza ai quali io li ringrazio vivamente, almeno loro con grande senso di professionalità e di umanità. Apprendevano la circostanza che io stavo male, mi hanno fatto uscire finalmente perché addirittura mi aveva sequestrato nel centro, nel box. Ringrazio il medico che mi ha soccorso con l'infermiera. Sono avvilita, sono mortificata perché i trattamenti disumani che violano qualsiasi dignità contro ogni forma di deontologia e quindi non ho parole se non altro lacrime, sono rammaricata, delusa, arrabbiata, ho scritto al governatore affinché venga a conoscenza perché lui che si batte tanto per la nostra regione, fa tanto per la nostra sanità, persone del genere disumane contro noi persone fragili, deboli, non è giusto, non è giusto, no mi dispiace. Grazie a tutti.